Buongiorno, la signora chiede di non essere fotografata, la facciamo una battuta della signora. La signora è molto scolvota e ancora molto addolorata in questo momento, chiede tranquillità, vuole anche lei capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo e perché è successo tutto questo. Abbiamo reso alcune dichiarazioni e adesso gli impirenti vanno avanti con le loro indagini e si cercherà di capire meglio gli istituti. Il papà poteva vedere la bambina? Le ha purato di vieti? L'aveva già vista altre volte? L'aveva vista qualche volta con i servizi sociali. Era la prima volta quindi che poteva averla con sé? No, non era la prima volta e i servizi l'hanno ritenuto in precedenza, che potessero essere 5% per me. Da solo? Quante volte da solo più o meno? 3 o 4 volte da solo. Stamattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia e sappiamo che ha ribadito la versione, la sua versione. Noi aspettiamo l'esito delle indagini fiduciose che è la prima volta. Grazie. 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 Grazie.